Musica Il rappresentante della Repubblica cieca, Pavel Kellen Vittorio Pavel, una fantastica raccoglia Molto forte gli atleti, una grande vittoria Sì, sono molto felice, perché ieri ero in settembre in sprint E oggi mi sento migliore e migliore E oggi la finale è molto buona Stava crescendo, in effetti oggi è arrivata una grande vittoria Pavel, per te Fiorenzola è qualcosa di speciale Per te Fiorenzola sta diventando qualcosa di speciale Sì, per Fiorenzola ero due anni fa E ho circa sette parti, ma oggi sono il primo Sempre migliora Sì Ok, anche due anni fa era qua, è arrivato al settimo Ma questa sera ha vinto, quindi migliora continuamente Thank you Pavel and congratulations Thank you very much, bye Grazie 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 Grazie